Ciao Enzo, il nostro cognome si pronuncia Strongoli, qua in Italia Strongoli. Ciao. Questo è il libro che sto scrivendo del tuo ramo genealogico. Sono 303 pagine, c'è tutta la storia della tua famiglia, Strongoli, dal 1800 ad oggi, con documenti, fotografie e tutto quello che sono riuscito a raccogliere in dieci anni. Quindi, tanti tanti documenti, fotografie di persone che sono ancora presenti, ma che sono anche morte, diciamo. Ecco, questo qui è il tuo ramo proveniente da Strongoli Giuseppe di Mongiana. Tu sei qui, eccoti, qua. Adesso andiamo a vedere la tua cartella. Eccoti qua, queste sono le foto che ho messo da tuo padre, un po' di storia di famiglia. Qua ci sei tu, con i tuoi diplomi, poi tua sorella e l'altra tua sorella Giuliana. Se mi scrivi un po' di storia di famiglia, io l'aggiungo. Non ho ancora numerato le persone, quindi non ti so dire quante persone sono, ma fra poco, fra un mesetto, fra un mese, riuscirò a dirti anche questo. Ora ti faccio scorrere velocemente fino in fondo. E vedi che ci sono documenti antichi, documenti nuovi. Questi qua sono in America, negli Stati Uniti. Ecco, questa qui è la giusta velocità. Bene, poi ne farò uno da far vedere a tutti quanti. Se hai delle foto antiche, anche delle foto ricavate dai cimiteri o d'album fotografici, inviale, me le invi che io le inserisco in questo libro. Molto velocemente, andiamo più forte, vai, 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 ecco, perché se no il filmato diventa troppo pesante. Ti saluto, a presto, ciao.